Allora, stavate cantando, stavate cantando, sì perché noi le vacanze le raccontiamo soprattutto in musica con Dario Salvatori, ben trovato Dario, con un altro che non farà vacanze quest'anno, Marcello Cirillo, ben trovato perché sarà sempre con noi, mica parte ovviamente, ben ritrovata Sara Manfuso, grazie Simona, grazie per essere con noi, grazie insomma a Carramone, tra pochissimo vi chiederemo quali sono state le vostre vacanze più belle, quelle di un tempo, le più recenti, però partiamo con la musica Dario perché in teoria spesso abbiamo parlato dei tormentoni, no? Chi, tra virgolette, deve scalare le hit musicali non va in vacanze. I cantati non vanno in vacanze l'estate. No, è tanto più, fermi da due anni, fatevi fare le vacanze. Facciamo di lavorare, almeno loro. Riportando appunto alla storia del cantagiro che come sapete sono 60 anni, quindi è una storia d'Italia meravigliosa e canzoni indimenticabili. Mi viene in mente il cantagiro del 68 con una Juni Russo, che si faceva ancora chiamare però Giussi Romeo. Giussi Romeo. Giussi Romeo aveva scoperto questo po' di voce, questa capacità soprattutto di tenuta, di note, di intonazione, di tutto il resto. E Albano gli scrisse una canzone che si chiamava L'onda, che insomma non è proprio nelle grandi interpretazioni di Giussi Russo, e va al cantagiro e non succede niente. Sentiamo un peccettino e poi ci dici. Tutti ci siamo guardati, come dire, ma... Non so, basta cambiare nome, qualche volta succede questo. E cambia anche la fisionomia. Sì, però poi, insomma, era andato malino anche il Sanremo, che aveva fatto, pensate, era in coppia con Sacha Di Stello, uno degli uomini più belli del mondo, fidanzato con Brigitte Bardot per tanti anni, chitarrista, jazzista, niente, venne eliminata anche là. E c'era anche Sanremo con Albano, e vabbè. Ma, andando al cantagiro del 72, Albano nel frattempo aveva messo su famiglia, quindi c'era Romina Power. Aspetta, 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 ne parliamo dopo, perché nel frattempo vorrei chiedere ai nostri ospiti, e precisamente a Simona, a Simona Vanni, la tua canzone dell'estate, la canzone delle vacanze, la tua preferita? Sembrerà strano, però è una canzone molto vecchia, ed è una rotonda sul mare, di Fred Bongusto. Come mai? Io sono un po' retro, quindi non faccio testo, sono nata nell'epoca sbagliata, evidentemente. No, in realtà è legata a un ricordo dell'estate della mia infanzia, a casa dei miei nonni. Noi siamo una famiglia molto numerosa, quindi si facevano sempre feste, e la canzone che apriva le danze era questa. Mio zio si metteva al pianoforte, cantava questa canzone, i nonni ballavano, e quindi io... Sentiamola, sentiamola. E a proposito di nonni, te la canto io. Un grande classico. Allora, Dario, stavamo parlando di questo gruppo che aveva messo su Albano. Chi c'era? Albano, Romina? Perché lui aveva messo su Famiglia in tutti i sensi. Romina, ovviamente, e Tarim Power, che era la sorella di Romina, che si fidanzò con Coscis, che era il fratello di Albano, Franco, che aveva sette anni di meno. Ha perso l'occasione per fare gli Abba, perché gli Abba erano due coppie, no? Poi dopo l'ho indicato, ma insomma, ti rendi conto? Però com'era questa canzone, Dario, era un po' così così la canzone. Ma era un po' così così. Vediamo, vediamo. Aspetta, ci avevano una canzone che si chiamava Taka Taka Banda, non rimane più nel repertorio di Romina, di Albano, ma nella Banda di Pignataro mi hanno detto che c'è ancora questa canzone. Ah, la famosa Banda di Pignataro. Sentiamola, sentiamola. Diciamo, non proprio indimenticabile. Ma dove l'hai preso? Ma sai, Albano era uno che faceva, in quel periodo faceva anche Teotorà, che si cantava, però faceva anche questo. Cioè, ci sta. Allora, torniamo a monitorare le vacanze di oggi, in qualche maniera, raffrontando da quelle di ieri una località che è un po' de modè, ma in verità è sempre di moda. No, è un evergreen. È un evergreen, ostia! Siamo sul litorale romano e c'è la nostra Rosanna Casio. Eccoci, Rosanna, dove sei? Allora, sono ostia, però innanzitutto voglio dare un po' di informazioni perché è accaduto qualcosa che non accade da mesi. Cioè, c'è stato un temporale estivo, 5 minuti di acqua, quindi sì, 5 minuti fa, 10 minuti fa. C'è l'arcobaleno ora. Adesso è arrivato l'arcobaleno, ma non si vede ovviamente, non possiamo farvelo inquadrare perché non si può con la telecamera. Quindi già vi diamo un'informazione alquanto particolare, però fa più caldo di prima. Ma io sono qui a Ostia, in uno stabilimento storico, perché negli anni 50 e 60 qui si facevano le feste dopo la fine delle riprese cinematografiche. In particolare, dopo i film di Fellini, dopo i film dove c'era Alberto Sordi. E io sono qui con il direttore artistico di questo stabilimento perché le cose nel tempo sono un po' cambiate, vero Kevin? Abbastanza, sì, anche se girano tanti film anche adesso, festeggiamo la sera, non più dopo le riprese. I tempi sono cambiati, prima era tutto quanto un po' più semplice, molto familiare, molto genuino. Ora è diventato più glamour, si ricerca il privé, la posa, la foto sui social, la bottiglia, lo champagnino. Non si chiamano più feste, ma si chiamano pasi, che c'è differenza. I pari, i pari, sono molto importanti, come si dice, no champagne, no party, no? Prima si parlava in studio anche della musica che si ascolta, sì? Un tempo poi Ostia era un po' legata a quella vacanza familiare, l'abbiamo detto prima. Tu ci andavi? Io ci andavo, io ero a Ostia. Col cocomero, il cocomero. No, 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 te lo dico io, andava col panino, con la mozzarella, il pomodoro e il prosciutto. E il tonno. Ma la frittata di pasta, la frittata di maccheroni, ecco, adesso Ostia nessuno si presenta più così, Rosanna, vero? Ecco, no. No, assolutamente. Io ancora me la faccio però, devo dire, io la frittata di maccheroni me la mangio, però di nascosto, si nasconde un attimo. Procciutto e mozzarella ce le mangiamo, però poi andiamo a fare, facciamo i glamour durante le serate. Ci vestiamo più carini, c'è la musica quella giusta, come si dice, pettinata col mignolo alzato e poi si fa le pose, le foto. La musica è un po' cambiata però. La musica è cambiata, però va il latino, va il reggaeton, va la pop italiana di oggi, però qui facciamo anche serate vintage e quando partono le hit di una volta ballano tutti. E tra poco ne facciamo partire altre, ne facciamo partire altre anche da qui. Allora Enzo Carramone, ci racconti qual è la tua vacanza indimenticabile e anche in questo caso a quale musica? La mia vacanza indimenticabile è la vacanza che corrisponde alla mia prima tournée, nell'83 partì in tournée con Teddy Reno e Rita Pavone, venivo dal talentiere che avevo vinto il talentiere. Sono partito con l'ora, abbiamo fatto 60 date in giro per l'Italia, quindi ho girato l'Italia, ho lavorato, ma nello stesso tempo ho fatto vacanze dappertutto. E la mia canzone, io all'epoca il Walkman c'era, con le cuffiette ho consumato, a me mi piace il blues e il vino d'anima. A che ti piace il blues? E a me pure. Mario, torniamo al passato, 1967, Vilma Goic al Cantagiro canta una canzone che è rimasta poi nella storia, se stasera sono qui. Sì, straordinaria, secondo me è una delle migliori canzoni di Tenko che però poi uscì postuma perché lui nel frattempo non c'era più e lei coraggiosamente la portò qualche mese dopo, la scomparsa di Tenko, al Cantagiro, al disco per l'estate e la cambiò l'arrangiamente, sentirete ci sono anche delle trombe mariaci, messicane, però c'è un'interpretazione straordinaria. Ce l'abbiamo. Ah, fantastico. Bellissima, bellissima Dario, veramente una canzone da brivido. Io intengo che Tenko sia stato più un compositore che non un interprete, però questa non fece tempo a cantarla, ma venne poi recuperato un provino che lui aveva fatto di se stesso e quindi esiste anche una versione di Tenko. Allora, mentre vedo che a Ostia dal trampolino qualcuno fa qualche salto femminario, tra pochissimo siamo da te, perché sotto questo punto di vista mi sembra che nulla sia cambiato rispetto agli anni, 50. Il tuffacufaniello si fa ancora. Cioè, come c'è il tuffacufaniello dopo? Sara, la tua estate del cuore, la tua canzone preferiva? Ma io lo dico ad una napoletana, siccome ho ascendenze napoletane anch'io, la mia estate del cuore è sempre stata quella con la mia famiglia, appunto a Napoli, a Vico e Quenze, con una canzone che ha fatto. Anche tu a Vico e Quenze? Vado davvero, questo continuiamo fuori. Napoli si dice, ha cambiato Napoli per Galleria. Anche lui è del nord, ovviamente, lo sentiamo dalla voce. Allora, la canzone, la colonna sonora, siccome era una grande birichina in estate un po' di più, è Lazzarella di Modugno. Ah, ce l'hai? Eh, ce l'ho sì. Ce l'ho, grazie. Il tuffacufaniello, caro Gianluca, è una sorta di tuffo a bomba, dove il bacino tu devi fare una sorta di movimento in modo che quando cai... Ah, fai il tuffaniello? Oh, tuffaniello. È una bomba. Allora, scusate, Rosanna Caccio, non penso che lì a Oste si fanno... A cofanetto in italiano. A cofanetto. Ecco, che tuffi stanno facendo da lì, Rosanna? Cosa sta accadendo? Allora, Gianluca, se siete d'accordo, io farei partire un tuffo, eh? Vediamo, vediamo, vediamo come si... Siete d'accordo? Sì, vai, vai. Andiamo con il tuffo. Attenzione. Mamma mia, dieci metri, ragazzi, eh? Complimenti, applauso. Questa è una candela, questa è una candela un po' scomposta, diciamo. Eh, vabbè, che diamo i voti adesso? Eh, no, vabbè. Però dieci metri sono tanti, Roberta. Sì, da dieci metri, insomma, ci vuole abbastanza coraggio. Assolutamente. E non abbiamo chiesto a Dario quella sua estate indimenticabile? Dario? Ma io la mia estate cercavo sempre poi di staccarmi dalla comitiva e di, insomma, puntare la ragazza che mi piaceva di più e quindi mi mettevo un po' sulla risacca e, insomma, dicevo, vedi la risacca, adesso c'è questa cosa, vedi, questa è la pietra pomice. Sì. Che poi c'è anche un mermo. Ah, ma non c'è questa cosa. Sì, ci abbiamo intuito. Non è parlato poi della, veramente, la prova d'amore, la prova d'amore, a 15 anni non si faceva. Però, dicevo, però ti do la risposta fra una settimana. Ma come mi dare la risposta? Comincia nelle scuole, che a dieci giorni mi dare la risposta. Sì, è così. E poi nel frattempo partiva, capisci, lo so, verrà la fine d'agosto. E invece, quindi, ci sentirei anche... E mi ha l'ansia alla fine d'agosto. Eh, la tua. Qual è stata? La tua vacanza è dimenticabile. Mentre Roberta, tu partivate nella Cinquecento? Sì. Noi eravamo in Cinquecento, invece. Sì. Una famiglia sterminata. E andavamo in Calabria, a Cauloni, a Rocella, la nostra... Quindi tornavi a casa. Tornava. Vuoi sapere la mia canzone? Sì. Sì, veramente. Eh, allora, dimmelo, è una canzone bellissima con la quale ho imparato a suonare la chitarra. Dai, presto, presto. L'ho detto anche la trotta su un'altra canzone. Ti saluto. Ah, potete continuare? Penso che la buona. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì. 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 E' bellissima una donna che io ammiro. Sto parlando di Sandra Milo. E' bellissima una donna. Sì.